Buonasera, benvenuti a questo nuovo incontro Parliamo di Il Cammino dei Tre Sentieri. Oggi ospitiamo con grande gioia Don Mattia Tanel, che è un giovane del clero secolare di Ferrara Comacchio, ufficio alla messa antica Vedo Stordo Ferrara, cappellano del cimitero di Ferrara. Ha un sito podcast di omelie che potete trovare digitando su Google Don Mattia Tanel Sprecher e ha tradotto per fede e cultura il libro dell'abbè Claude Barth, La Messa, una foresta di simboli, che è un libro che parla della simbologia della messa tradizionale. Don Mattia oggi ci parlerà della fede nell'attuale situazione di crisi nella Chiesa, che è molto forte questa crisi. Io non voglio togliere il meno tempo possibile a Don Mattia, vi ricordo solamente che potrete volendo fare delle domande a Don Mattia tramite i commenti sulla pagina YouTube. E vi ricordo che avremo degli altri incontri il prossimo giudizio, in ogni terzo giovedì del mese, su un libro. Il prossimo sarà sul libro di Roio Marenne sulla teologia della perfezione cristiana. E l'ultimo venerdì del mese c'è il ragione nazionale. Lascio la parola a Don Mattia e la riprenderò poi alla fine della sua relazione quando porro a lui delle domande che ci farebbe. Prego Don Mattia. Grazie a Pierfrancesco per la presentazione e a Corrado Nierre e al Cammino dei Tre Sentieri per questo invito. Il tema che mi è stato proposto, la virtù della fede in un tempo di crisi della fede, è molto vasto perché la fede ha moltissime dimensioni e in più c'è questo richiamo all'attualità ecclesiale, cioè alla crisi della fede che viviamo oggi. Perciò c'erano molti modi di affrontare questo tema e ho scelto un taglio preciso, cioè parlare della virtù della fede sotto l'aspetto del contenuto della fede e della trasmissione, che è la predicazione. Quindi la crisi della predicazione. La prima parte, i primi dieci minuti, forse sarò un po' più teorico, mi fondo sul trattato dei fide della Somma Teologica di Santo Maso d'Aquino all'inizio della seconda seconde, e poi invece vado più sul concreto. Vi chiedo una maggiore pazienza, una cosa un po' più laboriosa all'inizio, ma poi vedrete che vado sul concreto, sul pratico. E volevo partire da un articolo comparso nel 2006 sul Sole 24 Ore di un filosofo non credente che è Maurizio Ferraris, che non sono riuscito a reperire in internet, ma che vi riassumo nella sua constatazione di base, che certo potrete condividere tutti. e cioè lui diceva se noi all'uscita di una messa domenicale qualsiasi in Italia ponessimo ai fedeli che sono appena stati a messa delle domande più o meno semplici, basilari, sui contenuti della loro fede, sui contenuti della fede cattolica, scopriremo che all'uscita dalla messa domenicale ci sono un sacco di ariani, di pelagiani, di donatisti, di luterani, di liberali, di modernisti. Cioè scopriremo che ben pochi dei cattolici che frequentano domenicalmente la Santa Messa possiedono un'idea chiara e precisa dei contenuti della loro fede. Perciò i cattolici oggi, e la situazione di certo da 15 anni a questa parte non è migliorata, non conoscono la fede. Cioè anche colui che ritiene di credere che sinceramente vuole essere cattolico, e quindi essere cattolico praticante, ben difficilmente possiede le nozioni fondamentali della sua fede. E questo ovviamente pone un problema, perché la fede, così come è intesa dalla Chiesa, così come è in quanto virtù, è sicuramente tendenza all'adesione esistenziale a Dio, ma è prima di tutto e soprattutto adesione della nostra intelligenza a una serie di verità. Quindi assunzione nella convinzione, nella forte convinzione, di una serie di oggetti, di contenuti, di cose che concretamente crediamo. Possiede la fede chi possiede l'oggetto della fede. Infatti, la fede si può esprimere nella frase credo a ciò che Dio dice. Quindi, prima di tutto, credo a Dio. Una dimensione della fede è il credere Deo. Credo che Dio è veritiero in ciò che mi propone, e che attraverso la Chiesa mi è manifestato come oggetto di fede. E questo è ciò che è formale nell'atto di fede. Ma c'è anche la dimensione del credere Deum, del credere non in Dio, ma nel credere Dio, nel credere Dio come oggetto. Quindi, credere delle verità su Dio e credere in determinate verità che mi portano a Dio, che Dio ha rivelato come mezzi per arrivare a Lui. Perciò, non solo accettare Dio nell'autorità della sua persona, cosa che ovviamente è necessaria, credere Deo, ma anche aderire a Dio come a realtà creduta. E c'è questo. Quindi è l'aspetto dell'oggetto materiale della fede. Per dire, credo a ciò che Dio dice, devo sapere ciò che Dio dice e quindi devo essere istruito in ciò che Dio dice e in ciò che la Chiesa mi propone a credere. Poi c'è la terza dimensione del credere in Deum, che è la dimensione che non riguarda più solamente il mio intelletto, la facoltà dell'intelletto, ma riguarda anche la facoltà della volontà, cioè quello slancio, quella tendenza di adesione a Dio che è propria della fede quando è formata dalla carità. Ma questo credere in Deum è possibile se prima c'è il credere Deo e il credere Deum, cioè oggetti di fede. E quindi a Dio e a una serie di cose che pur non essendo Dio sono conosciute in quanto rivelate da Dio e ordinate a Lui. Allora dice San Tommaso e il Concilio di Trento nel decreto sulla giustificazione gli fa eco che la fede è la prima di tutte le virtù. Il Concilio dice è il principio dell'umana salvezza. Questo perché innanzitutto Gesù dice la verità vi farà liberi. cioè la liberazione dell'uomo dall'errore circa Dio e le cose divine costituisce il primo momento della salvezza. La salvezza fondamentale è la liberazione che la verità apporta al mio spirito. La liberazione dall'errore. Quindi c'è un momento negativo nella fede. E poi c'è un momento positivo cioè io devo conoscere l'ultimo fine che è Dio il mio fine ultimo e devo conoscere i mezzi che Dio ha stabilito per raggiungere Lui come ultimo fine e questa conoscenza deve trovarsi nella mia intelligenza prima che nella mia volontà perché la volontà si muove solo verso qualcosa che è stato prima conosciuto dall'intelletto è l'intelletto che mi indica l'oggetto a cui tendere quindi l'oggetto a cui la mia volontà deve tendere con amore con carità questo è il momento positivo cioè c'è un anteriorità della conoscenza sulla volontà e quindi anche una primordialità della fede sulla carità e sulla vita di carità io non posso volere nulla se prima non lo conosco perciò il credere e il credere degli oggetti determinati è necessario all'amare è necessario alla mia vita di carità e quindi alla mia vita di grazia ecco perché la fede non è primaria rispetto alla carità perché sappiamo che la virtù principale e che rimarrà in paradiso è la carità ma la fede è primordiale rispetto alla carità cioè viene prima la fede e questo mi consente poi di agire nella carità perciò come dice uno scrittore ecclesiastico che è Tertulliano in una sua opera che si chiama De Prescrizione Ereticorum alla fine in realtà la fede sarà la prima virtù su cui saremo esaminati nel giudizio futuro lui dice nel giudizio futuro in cui dovremo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo per rendere conto in primo luogo della nostra fede della fede come adesione a Dio ma anche come conoscenza di Dio se avremmo conservato la conoscenza di fede se l'avremmo implementata nella nostra vita anche su questo è un'altra saremo giudicati quindi questo è l'aspetto della fede come contenuto noi dobbiamo possedere la fede come contenuto nella interezza della dottrina sacra comprende i dogmata fidei e i dogmata morum cioè i dogmi relativi alla dottrina e i dogmi relativi alla vita morale ai costumi la conoscenza della dottrina morale è necessaria è necessaria per una vita morale retta la conoscenza della dottrina dogmatica è necessaria ad esempio per la nostra vita di preghiera perché la lode la gratitudine l'ammirazione la contemplazione stessa si fondano sulla conoscenza di ciò che Dio è e di ciò che Dio opera e ha operato inoltre la fede la conoscenza materiale dell'oggetto materiale della fede è necessaria per l'apostolato è necessaria per la formazione necessaria per autopreservarci dagli errori o preservarne altri dice San Tommaso che la fede è il principio primo della purificazione del cuore perché con essa si produce un moto verso ciò che ci è superiore cioè Dio e non verso ciò che ci è inferiore cioè le creature amando le quali la creatura ragionevole diventa impura quindi conoscendo Dio e conoscendo maggiormente Dio si crea in noi un principio di purificazione del cuore dall'attaccamento alle creature e poi c'è un aspetto anche di gratuità nel nostro desiderio di conoscere maggiormente la fede perché quando amiamo una cosa se noi amiamo Dio desideriamo conoscere quella cosa desideriamo approfondire quella conoscenza siamo interessati in maniera vitale a tutto ciò che riguarda Dio e le cose di Dio anche al di là di una finalità specifica il conoscere è proprio di chi ama perciò è importante che tutti noi come cattolici curiamo una conoscenza più estesa possibile della nostra fede in senso proprio materiale l'oggetto materiale della fede a volte si sente l'espressione quell'uomo quella donna è un uomo una donna di grande fede e noi di solito quando diciamo questo intendiamo questa espressione in senso soggettivo cioè una fede un uomo che ha una fede certa solida oppure un uomo che è molto pronto molto devoto molto confidente nei confronti di Dio delle cose di Dio delle pratiche religiose questi sono tutti i significati che anche Sant'Omaso contempla ma Sant'Omaso sottolinea che la fede può essere in qualcuno più grande anche dal punto di vista oggettivo cioè dal punto di vista materiale cioè in base alla esplicitazione maggiore dei dogmi cioè qualcuno che non conosce solo i principi primi della fede cioè gli articoli di fede principalissimi ma ne conosce anche le derivazioni le esplicitazioni successive quindi possiamo essere e dobbiamo essere uomini di grande fede in senso soggettivo ma anche in senso oggettivo cioè uomini che cercano di conoscere sempre di più e sempre meglio il contenuto della fede nelle sue particolarità e ancora tertuliano a proposito di quello che dicevo cioè l'autodifesa dagli errori è possibile se possediamo questa estensione della conoscenza di fede perché le eresie nate per soffocare e uccidere la fede non possono nulla se incontrano una fede formata e robusta sempre San Tommaso dice che quando parla della causa della fede nella questio 6 la seconda del trattato dei fide che cito per la fede si richiedono due cose la prima delle quali è la presentazione all'uomo delle cose da credere in secondo luogo l'adesione del credente alle cose proposte perciò non possiamo naturalmente aumentare la nostra conoscenza dell'oggetto materiale della fede se non ci viene proposto questo oggetto materiale o ci viene proposto in maniera dimediata deficitaria incompleta San Paolo nella lettera ai romani capitolo 10 dice la fede viene dall'ascolto in maniera felice direi la cei nella traduzione attuale traduce questo versetto 17 in questo modo la fede dunque dipende dalla predicazione c'è un legame strettissimo tra la nostra fede la fede che possediamo e la fede che viene predicata dai ministri della chiesa infatti dice San Paolo tre versetti prima romani 10 14 come potranno credere senza averne sentito parlare allora ad alcuni cioè agli apostoli e ai profeti Dio ha rivelato le verità di fede in maniera diretta personale ma a noi le verità di fede vengono proposte da Dio mediante i predicatori della fede ecco quindi che e vengo all'attualità la crisi della fede come crisi della conoscenza della fede da parte di noi cattolici rimanda necessariamente alla crisi della predicazione della chiesa e questo a tutti i livelli la predicazione comunemente intesa che è la predicazione liturgica la catechesi che è predicazione sia infantile sia agli adulti la dottrina che i sacerdoti amministrano individualmente ai fedeli ad esempio nella confessione nella direzione spirituale c'è una sorta di abdicazione oggi nel sacramento della confessione dei sacerdoti all'istruzione dei fedeli perché invece la confessione è un momento estremamente privilegiato della predicazione della fede come contenuto perché lì puoi incontrare la persona e renderti conto delle sue lacune e spesso oggi la confessione è un momento perso quanto riguarda la formazione alla fede e poi non si può ovviamente nascondere che la criticazione trova forse il suo apice e anche la sua causa ultima nella crisi della stessa proposta magisteriale ufficiale da parte del magistero e i vescovi del papa proposta magisteriale che è sempre più vaga incompleta e assume un atteggiamento più opinativo che definitorio e direttivo mentre il magistero deve dare con chiarezza i contenuti della fede e darli non solo con chiarezza ma anche con completezza quindi la crisi della predicazione sacerdotale oggi ha la sua radice nella crisi del magistero stesso ora ai sacerdoti viene conferito il così con l'ufficio del sacerdote da doversi considerare imposta con l'ufficio medesimo anche San Paolo nella lettera ai Colossesi capitolo 2 dice camminate in lui in Cristo saldi nella fede come siete stati istruiti sicutet didicistis è ancora il verbo docere del munus docendi quindi il verbo di insegnare il compito del sacerdote di insegnare ora perché oggi l'insegnamento dei sacerdoti è un lamento comune è così deficitario inefficace talvolta erroneo tanto che viene in mente la frase presente nel libro del profeta Geremia peribit l'ex a sacerdote verrà meno la legge al sacerdote sicuramente appunto la radice ultima sta nella crisi del magistero pubblico del papa dei vescovi che termina ormai da vari decenni anche una crisi nella formazione che i sacerdoti ricevono nei seminari quindi c'è una crisi dell'insegnamento seminaristico dell'insegnamento teologico e su questo naturalmente non mi soffermo più di tanto perché sono dinamiche macroscopiche che meritano ovviamente di essere menzionate analizzate ma sfuggono alla possibilità di fare qualcosa almeno per noi quello su cui vorrei piuttosto soffermarmi è un'altra causa un'altra concausa che è un equivoco nella nozione stessa della predicazione cioè accade che anche sacerdoti personalmente retti nella fede ortodossi ben formati concepiscano oggi in maniera a mio parere erronea incompleta la predicazione specialmente la predicazione liturgica e qui ricorre a una distinzione medievale tra predicazio e exortazio tra predicazione e esortazione la chiesa gerarchica nel medioevo conferiva due distinti mandati a distinti soggetti il mandato di predicare predicazio e il mandato di exortare quindi di esore che poteva essere conferito anche a laici oppure a sacerdoti poco formati mentre il mandato propriamente sacerdotale quindi ciò in cui era si faceva consistere il munus docendi il compito di insegnare vero e proprio era affidato alla predicazio la predicazio è vero e proprio insegnamento insegnamento dottrinale della fede mentre l'exortazio era l'invito al cambiamento dei costumi quindi una predicazione più semplice più alla portata di tutti che faceva leva sugli affetti che faceva leva sulla bruttezza del peccato sulla necessità di convertirci di uniformarci a Cristo una predicazione soprattutto morale quest'ultima si chiamava exortazio ed era affidata a soggetti non necessariamente non necessariamente a ministri sacri o a momenti strettamente liturgici ed era ben distinta dalla predicazio cioè dal compito specifico dei sacerdoti questa distinzione ha un fondamento una radice anche biblica sempre nella lettera ai romani nel capitolo quando San Paolo dice abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi sive qui docet in doctrina qui exortatur in exortando cioè chi insegna si dedichi all'insegnamento chi esorta si dedichi all'esortazione due atti diversi insegnamento ed esortazione che postulano anche due carismi differenti in qualche modo ora a me pare mi sembra mi sembra di constatare naturalmente è una mia valutazione è una mia opinione che oggi i sacerdoti concepiscano il loro munus docenti la radicazione non più come predicazio nel senso medievale ma solo come exortazio quindi in termini oggi si sa che la chiesa ha smesso di parlare latino e ha iniziato a parlare greco oggi si dice pareinesi cioè esortazione appunto anche se la stessa predicazione esortativa di oggi è qualcosa di immediato di diminuito rispetto all'exortazio perché si omette completamente quella dimensione fortemente monitoria ammonitoria dell'exortazio medievale quindi per esempio si invita a una conversione di cui non si esplicitano mai i contenuti concreti l'altro giorno ho partecipato da fedele a un funerale il sacerdote ha parlato della necessità di convertirci ai valori del Vangelo eccetera ma non c'era la determinazione di in che ambito dobbiamo convertirci da cosa da quale vizio verso quale virtù dobbiamo tendere non si esplicita mai un contenuto allora bisogna invece secondo me che si ritorni alla concezione della predicazio vero e proprio che è il compito dei sacerdoti perché la predicazione è innanzitutto insegnamento è innanzitutto istruzione è trasmissione di nozioni è illustrazione il più completa possibile per quanto alla portata delle persone della sacra doctrina Lazio non mira innanzitutto a smuovere gli affetti quindi a muovere la volontà ma a illuminare l'intelligenza perché appunto l'intelligenza l'intelletto e quindi la virtù della fede che inerisce all'intelligenza è primordiale rispetto all'affetto alla volontà quindi alla carità dice Newman che è dalle sorgenti del pensiero che scaturisce ogni vera conversione e ogni durevole conversione e nella stessa ottica anche San José María Scrivá de Valagher nella sua pretta Cammino dice simpaticamente che gli uomini come i pesci bisogna prenderli dalla testa quindi è innanzitutto l'intelligenza che va illuminata questo era molto chiaro è sempre stato molto chiaro fino a tempi recentissimi fino a prima del concilio Vaticano II che segna una cesura in questo modo di intendere la predicazione cioè la predicazione era intesa come trasmissione di precisi contenuti tanto che la predicazione anche liturgica durante le sante messe sono famose molte diciamo dispute medievali che avevano come teatro proprio la predicazione liturgica quindi ai fedeli si proponevano addirittura tesi teologiche in contrasto con altre tesi teologiche quindi pensate a quale livello di come dire di dettaglio arrivava l'istruzione propriamente dottrinale se non era solo la dottrina ufficiale della chiesa a essere proposta ma addirittura le tesi di scuola che si confrontavano a seconda delle varie scuole dei vari ordini religiosi che propugnavano una dottrina piuttosto che un'altra è ovvio che questo cioè la disputa teologica oggi non è più proponibile in sede di predicazione però va recuperato l'aspetto della istruzione della determinazione di un contenuto dogmatico e morale che il sacerdote deve proporre ora questo si accompagna naturalmente nei sacerdoti nella formazione dei sacerdoti anche nell'impostazione dei sacerdoti si accompagna la diserzione del magistero e alla diserzione dalla teologia su cui la chiesa ha sempre fatto affidamento che è quella di Sant'Omaso d'Aquino che è l'unica a poter fornire ai sacerdoti una struttura concettuale in cui inquadrare la fede nella sua completezza inoltre la predicazio come era intesa come è stata intesa da sempre e anche e necessariamente confutazione degli errori confutazione di ciò che alla fede si oppone e questo aspetto è oggi come possiamo notare completamente abbandonato i sacerdoti non denunciano più errori propongono al limite delle verità dei contenuti in positivo ma senza censurare l'errore opposto e questo è anche semplicemente dal punto di vista psicologico poco efficace all'illustrazione della stessa verità perché la nostra psicologia umana è fatta in modo tale che afferriamo in maniera migliore più netta una verità quando viene confutato l'errore opposto e quindi l'abbandono di questa dimensione anche polemica anche apologetica della predicazione in realtà nuoce alla trasmissione positiva del contenuto della fede San Tommaso dice che la taciturnitas diciamo la sì l'essere silenti sugli errori il non citare l'errore che si oppone alla verità è a conferma dell'errore stesso e cita San Gregorio Magno una regola pastorale che parla invece del silenzio indiscreto del predicatore il silenzio che lascia le anime nell'errore perché non confuta gli errori che sono diffusi oggi sono diffusissimi anche nel popolo cristiano specialmente in campo morale e questa questa parola che usa San Tommaso era diffusa anche un secolo prima di lui nel XII secolo si parlava della pessima taciturnitas del cattivo silenzio dell'episcopato di fronte in quel caso all'eresia albigese che aveva grande facilità di diffusione in Francia nel nord Italia proprio perché mancava la volontà di confutare per oggi non siamo più alle prese con l'eresia albigese ma siamo alle prese con moltissimi altri errori e possiamo veramente riproporre questa espressione la pessima taciturnitas il cattivo silenzio dei pastori che non sentono l'esigenza di denunciare l'errore proprio perché la prospettiva in cui si muove la chiesa a partire da Giovanni XXIII è quella di cercare ciò che ci unisce e non ciò che ci divide ma questo conduce a una contrazione del contenuto predicato perché se io predico solo ciò che mi unisce ad esempio ciò che mi unisce ai cristiani di altre confessioni ebbene sto omettendo ampia parte di ciò che forma invece il deposito della fede cattolica perciò un esame di coscienza che anch'io come sacerdote sento bisogno di farmi è ma io propongo tutto l'insegnamento della chiesa e lo propongo a tutti ad esempio nel corso di un anno liturgico pensate alla vostra parrocchia o alla vostra realtà di riferimento nel corso di un anno liturgico vi viene proposta l'integralità della fede vi viene proposta la fede omelia dopo omelia predica dopo predica vi vengono proposti tutti che è Quei fedeli, i fedeli di quella parrocchia rimangono ignari su gran parte del deposito della fede. C'è una settorializzazione della predicazione a partire dalla soggettività del predicatore. Io ascolto molti, anche bravissimi predicatori su YouTube, anche per esercitarmi nell'ascolto della lingua francese, anche francesi. Ci sono davvero dei bravissimi sacerdoti che meritoriamente mettono a disposizione le loro riflessioni, le loro prediche via internet. E questo è una grande grazia. Ma ciò che noto è che, quanto mi consta, nessuno di essi si pone questo problema, cioè di proporre tutta la dottrina, predica dopo predica. Ciascuno ha il suo taglio, il suo ambito di specializzazione. E quindi si crea una costituttiva mancanza di determinati contenuti. Questo è, per esempio, un problema. Poi c'è una concezione che è assolutamente egemonica oggi nei sacerdoti, cioè i sacerdoti sono convinti, e gli viene anche inculcato nei seminari, che la predicazione debba aderire in maniera stretta, pedissequa, alle letture bibliche proposte dalla liturgia del giorno, la liturgia domenicale, ad esempio. C'è un'eccessiva allerenza alla pericope evangelica o biblica del giorno. Mentre, e questo fa sì che la predicazione si trasformi spesso in lezio divina, in meditazione, cosa che la predicazione non è, perché la predicazione è insegnamento. E quindi io devo sì partire, se possibile, dal Vangelo del giorno, dall'epistola, ma posso anche, a volte eccezionalmente, non farlo e basarmi, partire, prendere lo spunto da un altro testo liturgico, cosa che è assolutamente possibile, quindi da un testo della liturgia propria di quel giorno. E poi devo passare alla proposta della dottrina cattolica, perché ciò che io devo illustrare, proporre ai fedeli, non è una mia meditazione sulla Bibbia, che rimanga alla Bibbia, ma è la norma prossima della fede, che è la proposizione della Chiesa, cioè la dottrina cattolica. Si dimentica, cioè, che la Sacra Scrittura, così come la tradizione apostolica, che si è prima nei padri della Chiesa, sono norme remote della fede, ma la norma prossima della fede cattolica è il magistero, è l'insegnamento ufficiale della Chiesa, ed è questo che devo proporre nell'Omelia. E' vero che Sacra Scrittura e tradizione apostolica sono norma normante, cioè norma che regola la stessa proposizione magisteriale, che dipende dal deposito della fede. Ma a livello immediato, alla mia intelligenza, giunge la proposizione della Chiesa. Quindi ciò che sono chiamato a predicare è la proposizione della Chiesa, è la dottrina della Chiesa. E questa eccessiva aderenza al dettato biblico mi impedisce spesso di arrivare alla dottrina cattolica. Per cui posso fare una bellissima meditazione, una bellissima omelia, ma concretamente non ho proposto all'intelligenza un contenuto, che viene dal Magistero. E quali sono questi contenuti che spesso oggi non arrivano, non sono adeguatamente esplicitati. Soprattutto quelli relativi all'aspetto negativo. Oggi c'è una grande difficoltà, anche psicologica, dei sacerdoti, a proporre l'aspetto negativo della vita cristiana. Cioè, per esempio, la lotta contro il peccato, il peccato mortale, non si sente mai più nominare, il peccato veniale, il peccato veniale deliberato, l'imperfezione, i vizi e i peccati nello specifico, il peccato originale, dottrina completamente scomparsa dalla predicazione. Oppure la lotta contro il mondo, la lotta contro il rispetto umano, la demonologia, l'esistenza di Satana e la sua azione, quindi la tentazione, per esempio. La necessità e l'eccellenza della sofferenza, il valore espiativo della croce. la necessità dell'ascesi, della mortificazione, della penitenza, il distacco dalle creature, la virtù della castità. Nessuno predica più sulla castità. eppure si è sempre detto che all'inferno si va per il peccato di lussuria o non senza il peccato di lussuria. Quindi è quanto mai urgente richiamare questo è la predicazione. Sono più che convinto che in passato, in quell'età che comunque è un'età di decadenza, che sono i decenni precedenti al Concilio Vaticano II, forse c'era un'eccessiva, un'ossessività anche su questo tema. e quindi va rifuggito anche l'eccesso. Però un'altra cosa è tacere completamente questo aspetto, cioè la virtù della santa purezza. Non so quando è stata l'ultima volta che ho sentito qualcuno predicare sulla purezza. Oppure l'escatologia, quindi il giudizio di Dio, l'inferno, argomento completamente scomparso, il purgatorio, le indulgenze, i suffragi, il timore di Dio. Tutto questo e molte altre cose che fanno parte dell'aspetto negativo della vita cristiana non vengono predicate. Ma anche molto di ciò che costituisce l'aspetto positivo della vita cristiana è oggi negletto nella predicazione, specialmente per ciò che riguarda gli aspetti vocazionali, gli aspetti dei doveri di Stato, della scelta del proprio Stato. Per esempio, nessuno richiama più la dignità e l'eccellenza del sacerdozio, la superiorità dello Stato virginale su quello coniugale, oppure i doveri dei coniugi, la benedizione che Dio riserva alle famiglie numerose, la procreazione come fine primario del matrimonio, i figli come benedizione di Dio, eccetera. La responsabilità dei genitori sull'educazione cristiana dei figli, oppure anche le virtù non vengono più citate e anche non si viene più incoraggiati nello specifico a vivere una determinata virtù, a come viverla, i doveri di Stato, eccetera. L'angeologia, anche la cristologia, la sacramentaria. Cioè, tutti gli aspetti propriamente dottrinali sono in qualche modo messi tra parentesi. E questo sicuramente crea quello che si potrebbe chiamare un esoterismo sui generis. Cioè, io sto parlando comunque di sacerdoti retti che hanno la fede, che conoscono queste cose, ma che fanno fatica a esprimere, a esplicitarle. Per cui, l'integralità del messaggio cristiano, specialmente in campo morale, viene riservata all'istruzione privata che viene data a fedeli magari più fervorosi o più interessati. Cioè, a fedeli predisposti. Mentre agli altri, alla predicazione pubblica, erga omnes, si nasconde gran parte della fede e della morale. E questo nasconde, secondo me, nei sacerdoti un vizio morale che è il timore, che è la pusillanimità, che è la mancanza di coraggio. Perché si teme di creare nei fedeli, nei fedeli di oggi, che sono disabituati a sentire queste cose, si teme di creare disagio, rifiuto, sconcerto. ma questo timore eccessivo è un vizio, perché è un timore che non è moderato dalla virtù della fortezza. E quindi c'è una sorta di calcolo nel predicare e nella scelta di cosa predicare. Si tende a predicare cose che possano risultare accessibili, comprensibili e che possano cioè in poche parole si predica opportune e mai importune secondo la definizione di San Paolo che invece invita a predicare il Vangelo opportune e importune cioè quando è opportuno e anche quando non è opportuno umanamente parlando. C'è una predisposizione ecologica interiore all'eufemismo all'attenuazione all'adattamento verso il basso anche all'eccessiva semplificazione dei contenuti e quindi alla condiscendenza verso l'ignoranza e anche verso la debolezza morale. E questa situazione che si protrae da vari decenni rende mano a mano sempre più difficile tornare indietro cioè tornare alla integralità della proposta di fede che è propria del predicatio cioè del munus docendi dei sacerdoti e quindi rende sempre più difficile vorrei chiedere a Pierfrancesco quanto tempo ancora per concludere non ti senti non ti ho sentito comunque forse dieci minuti ce li ho perché questa questa rinuncia alla dimensione ardua esigente e chiaramente connotata della fede espone la fede stessa all'insignificanza e alla sottovalutazione agli occhi degli stessi fedeli e infatti fanno sempre meno conto degli insegnamenti della chiesa perché questi insegnamenti non vengono più ricordati quali sono i suggerimenti pratici e le misure che noi possiamo adottare mettendosi anche da parte vostra di fedeli in questa situazione ma sicuramente appunto internet costituisce un grande aiuto per integrare quella proposta di fede che non è più appunto integralmente fornita dalla predicazione parrocchiale ordinaria sempre Maurizio Ferrari si chiedeva anni fa se internet potesse essere definito uno strumento cattolico e rispondeva di sì perché il cattolicesimo è un'universalità e quindi effettivamente con internet veniamo raggiunti è possibile raggiungere è possibile essere raggiunti universalmente da molti contenuti buoni positivi anche se ad internet manca quella dimensione incarnata la dimensione di contatto reale che è propria del cattolicesimo perciò internet può essere un succedaneo può essere un aiuto ma non è sicuramente la soluzione io condivido molto mi sento molto in sintonia con il cammino dei tre sentieri nella preferenza accordata alla messa tradizionale rispetto alla messa novusordo perché il preferire anche con sacrificio magari di tempo di spostamenti la messa antica rispetto alla messa diciamo così parrocchiale ordinare in italiano ci può davvero mettere nelle condizioni migliori per nutrire la nostra fede a livello di contenuto questo un po' perché in noi soggettivamente la stessa difficoltà della messa tradizionale che non è immediata chiaramente crea una disposizione psicologica a una maggiore attenzione a un maggiore approfondimento e quindi a una maggiore assimilazione dei contenuti che vengono proposti anche nell'omeno e lì oggettivamente dalla parte dei sacerdoti i sacerdoti che celebrano la messa antica che lo fanno ordinariamente in particolare più ortodossi sono più preparati per il fatto stesso di conoscere il latino almeno per celebrare la messa garantisce comunque un livello di preparazione maggiore anche il fatto di comprendere la bellezza la profondità della messa antica è segno di una di un maggiore desiderio anche di conoscenze di approfondimento da parte del sacerdote stesso che quindi più facilmente avrà dei contenuti autentici da trasmettere e poi nella messa antica i sacerdoti sono più liberi di esporre la fede nella sua integralità nella sua verità nella sua dimensione anche esigente perché sono diversi fedeli e quindi il sacerdote è facilitato nella vittoria su questo rispetto umano su questa ritrosia che da cui è facile essere colti predicando la messa nuova perché quando si predica la messa nuova ci si rende veramente conto a volte salvo eccezioni parrocchi particolari che predicare su certi argomenti significa veramente buttare delle bombe nell'assemblea quindi è davvero difficile io celebro entrambi i ritmi però è molto più difficile predicare l'integralità della fede e tutte le dimensioni della fede di fronte a un uditorio che è completamente impreparato e diseducato da decenni a ricevere la pienezza della fede quindi questa preferenza alla messa antica è sicuramente una strategia essenziale di fronte alla crisi della trasmissione della fede e della predicazione dei sacerdoti e poi siamo chiamati cerondire a livello individuale e qui ci vengono in soccorso i libri di una volta c'è una differenza molto grande anche nella stessa produzione libraria a livello ecclesiale la produzione dei libri di sacerdoti i libri che espongono la fede i libri scritti prima del concilio più precisi dottrinalmente sono più perspicui nel enucleare le verità fondamentali della fede nel farlo con efficacia dobbiamo diventare un po' topi di biblioteca in questo senso cioè andare a cercare le cose buone di una volta a livello di spiritualità a livello di apologetica a livello di dottrina e anche a livello e questa è una cosa veramente fondamentale nella autoformazione dottrinale anche di un laico a livello di biografie di santi le buone biografie le classiche biografie di santi di una volta sono molto nutrite dottrinalmente trasferiscono ottimi contenuti dottrinali specialmente quando si parla di santi che sono stati magari mistici o sono stati teologi perciò anche la dimensione proprio della ricerca cartacea che ci può aiutare a superare quella superficialità e quella episodicità che una autoformazione basata esclusivamente su internet può indurre non è la stessa cosa leggere un contenuto su internet o avere il cartaceo in mano che lo conservi nella libreria quindi il recupero della lettera anche qui il concilio appunto è una cesura netta mi sembra una strategia molto opportuna poi diciamo così è chiaro che queste sono strategie di emergenza perché la soluzione al problema deve venire dal dal fatto che i sacerdoti stessi devono credo rendersi conto del loro dovere di esercitare la predicazio nel senso che dicevo prima e perciò noi stessi possiamo avere una funzione nei confronti dei sacerdoti nei confronti ovviamente dei sacerdoti ben disposti i sacerdoti che possono comprendere un discorso del genere cioè i fedeli possono con carità con amicizia in qualche modo spingere il sacerdote far notare al sacerdote al loro parroco se è un buon parroco che si ha bisogno di una maggiore esplicitazione a livello di contenuto quindi un fedele può davvero aiutare il sacerdote anche mostrando interesse per i contenuti spingendolo a tematiche nella predicazione una cosa un apostolato molto buono che un laico può fare nei confronti di un sacerdote ben disposto è chiedere di trattare in un'omelia un determinato tema specifico che non viene mai trattato proporre tematiche ai sacerdoti di questa cosa non parli mai perché non ce ne parli sarebbe molto interessante cioè si può stimolare si possono stimolare i sacerdoti a tornare a a determinate tematiche che sono di fatto oggi appunto scomparse dalla predicazione ecco penso di aver finito il tempo avevo anche altre cose però magari per le lascio per le domande grazie insomma volevo evidenziare e chiedere qualcosa ma ho ricevuto una domanda e quindi la giro che è questa la domanda dice dunque comprendi per credere e credi per comprendere comprendi la mia parola per comprendere comprensione e fede quindi in relazione da quanto capisco da questa domanda credere e credi per comprendere prendi la mia parola per credere e credi nella parola di Dio per comprendere la comprensione di quel che si crede la comprensione la conoscenza di ciò che così cresce all'oggetto di fede cioè la conoscenza sempre più definita l'ho accennato anche prima però la nostra vita di preghiera la nostra vita contemplativa la nostra vita spirituale che poi ciò che ci interessa non può prescindere dalla conoscenza perché noi perché noi contempliamo ciò che è il dato di fede e poi la contemplazione naturalmente non è solo conoscenza ma è conoscenza amorosa cioè adesione amorosa all'oggetto di fede la meditazione aderisco amorosamente a un oggetto di fede che contemplo ma per farlo devo averlo prima assimilato cioè deve essere presente nella mia intelligenza quell'oggetto di fede quindi in realtà la conoscenza dottrinale non è una cosa di non è qualcosa di astratto e arido ma è qualcosa che stimola potentemente in noi la contemplazione l'amore di Dio e appunto l'adesione amorosa a Dio contemplato conosciuto contemplazione è ammirazione è lode è la grandezza di Dio più conosco Dio e più ammiro Dio più mi forma un'idea di Dio nella sua bellezza nella sua verità quindi la conoscenza fonda un maggiore amore di Dio dice la scrittura in meditazione mea exardesce tinnis è l'azione che scaturirà il fuoco dell'amore quindi io crescerò nell'amore di Dio nell'amore di fratelli nella misura in cui nutro la mia conoscenza delle cose di Dio quindi è fondamentale per la nostra vita spirituale la conoscenza chiarissimo naturalmente è chiaro che questo avviene in proporzione al nostro tempo alle nostre capacità alle nostre possibilità ai nostri doveri di stato però è possibile di li conoscere sempre più certo io la ringrazio per la di nuovo per la bella relazione la mi ha responsabilità di invitarla per un altro incontro e ricordo a tutti coloro che sono collegati del prossimo giovedì sul libro del mese e quello del mese per il raduno nazionale con il professor Corrado Nier ringrazio tutti della presenza e vi vedo ai prossimi incontri grazie e arrivederci salve salve